Che dirvi ragazzi, qui è così emozionante che non riesco a staccare gli occhi da questo capolavoro di casa nostra. Sesto secolo avanti Cristo, carro etrusco, carro da parata, scene della mitologia america, Teti sta consegnando un elmo e lo scudo a suo figlio Achille, lavorazione a Sbalz, un carro benvenuto nel 1902 a Monteleone di Spoleto, venduto per pochi soldi ad un antiquario di Norcia, passa a Roma, sappiamo già che nel 1903 è già a Parigi e un certo Pierpont Morgan, magnate americano, lo compra e va oltro oceano. Morgan diventa direttore del Metropolitano Museum e lo donerà poi successivamente al museo stesso e da allora è qua. E io sono tanto tanto emozionante e meraviglioso. Onora la nostra terra, una terra bellissima, ancora piena di segreti, di scrigni sotterrati. Pace a tutti.